Buongiorno e benvenuti. Io sono Matteo Gavazzeni, maestro di tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari. In questo momento ci troviamo nel laboratorio di fotografia. Come potete vedere, intorno a me ci sono delle strumentazioni professionali e nelle mie mani c'è questa fotocamera digitale Reflex. All'interno di questo laboratorio vi insegneremo a creare lo scatto perfetto o il video più efficace possibile. Il segreto starà nell'insegnarvi ad utilizzare questo strumento, che è appunto la fotocamera digitale, in tutte le sue sfaccettature. Lo scopo è quello di rendervi autonomi e in grado di poter sfruttare tutta la vostra creatività e tutte le vostre potenzialità.